Ovviamente non è mancato il cafone e allora l'apertura metropolitana deve rappresentare anche l'occasione per rilanciare la nostra battaglia Cafoni Zero a Salerno. Vi faccio vedere il cafone numero uno. Ecco, questo è il cafone numero uno. Questa è la stazione della metropolitana di Pastena. Ma, vedete, lo stavamo aspettando, questo imbecille che è andato a fare le scritte, il manifesto. Vedete, B, B, la B, ecco, ha lasciato la sua firma, bestia, vedete, questa è una bestia e ci ha tenuto a mettere la sua firma, bestia. Ne approfitto ovviamente per lanciare la campagna Cafoni Zero per farvi vedere le immagini delle campane. Le campane, che dovrebbero essere per il vetro, vengono utilizzate da alcuni cittadini cafoni per fare altro. Questa è la campana Via Diaz. Queste signorine qui che vanno a buttare i rifiuti sono provenienti dal condominio di Via Diaz 44. Vedete questa com'è bella, pronta, con il paccotto. Guardate quest'altra. E così le riconoscete pure, questa signora Bruna. Vedete con che eleganza, due pacchi in mano. Qui abbiamo un'altra signora, anche qui vedete con che eleganza. Poi se la vedete più giù, ecco, questa è la stessa signora. È una piedigrotta, vedete, con tanto di offerta di perizoma al popolo. Ecco qui. E fra un perizoma e l'altro, un deposito di rifiuti. Facciamo i complimenti alla signora, anche per la sua eleganza e raffinatezza. Questo in maglione rosso, Kashmir, vedete che finezza. Fa lo slalom attorno al motorino, sempre Via Diaz qui. Ovviamente noi stiamo individuando tutti questi soggetti con le nostre telecamere e tutti questi signori che vedrete pagheranno 500 euro. Vedete la signora con fular, sembra quasi una sfilata di moda. Signora con fular, qui signora con caschetto. Vedete che finezza. Poffete, 500 euro. Ecco, 10 sedute dal parrucchiere. Qui invece siamo a Via Manganario. Questo è un cafone motorizzato. È uno sgangherato pure come motorizzazione, per la verità. Signora, che c'è? A Nocera direbbero la laparella. Questa è la laparella, dicono i miei amici di Nocera. Ecco, questo con la laparella ci è venuto a fare il regalino. Bravo. Altri 500 euro di multa a questo signore di cui abbiamo preso la targa, ovviamente. Andiamo avanti. Ci vuole stomaco e ci vuole soprattutto fegato. E questo con un sindaco che è tignoso. Io vi lascio immaginare con uno che viene al comune, si fa mezz'ora a mattina, che succederebbe?